Udinese-Spezia 1-3 Molina-Marie-Verde-Gausy-Verde Lo Spezia si chiama fuori dalla lotta per la salvezza con successo di 2-3 a Udine. Una vittoria che arriva e rimonta dopo che i rifluiani avevano bloccato lo score con Molina, ventiseesimo che piazza a fin di traversa un rivio difettoso della difesa. Pari già a trentacinquesimo con Gran Sinistro al volo di Verde. Il sorpasso arriva nel recupero con Gusalì. Proprio dopo l'intervallo quarantasettesimo il gol di Maggiore mette al sicuro i Liguri, terzo anno di A. Nel finale Maian sbaglia un rigore, Marie al novantaquattresimo accorcia. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, azionate la campanella notifica e un commento. Ciao!